Devo veramente ringraziare questa Mina Settembre, prima di tutto Maurizio De Giovanni, Tiziana Aristarco, la produttrice, Paola Lucisano e tutti questi miei colleghi con i quali siamo stati veramente bene. Questo personaggio di Olga è stata una delle prime fiction, forse da tanti anni avrei voluto avere un'occasione così e quindi ringrazio tutti per avermela consentita. Quest'anno io sono poco presente per motivi personali nella serie, ho lavorato pure praticamente zero, però sono orgogliosa di esserci stata, questo poco che ci sono stata. Avete già detto quello che volevo dire a proposito del valore di questa fiction che sta prima di tutto nel fatto di mostrare delle persone per bene, dei napoletani per bene, quando molto spesso si racconta una Napoli della criminalità. Però la cosa principale sta proprio nel personaggio di Mina che è un invito alla solidarietà. Noi siamo stati lontani, separati gli uni dagli altri in questi ultimi anni e abbiamo bisogno invece di aprirci al prossimo e avere una maggiore attenzione, una maggiore generosità verso gli altri. Quello che mi fa contenta è di passare il testimone della linea comica a Marisa e lei è mia sorella nella storia, nella serie, ma è una sorella da sempre. Abbiamo iniziato insieme questo percorso del teatro artistico, abbiamo vissuto pure tre anni insieme in 35 metri quadri con i nostri due compagni, nessuno dei quattro lavorava e abbiamo fatto veramente la fame e adesso Marisa è quella che è. Penso che il pubblico la accoglierà a braccia aperte come l'ha sempre accolta. Insomma grazie davvero a tutti quanti e bocca al lupo.